Ciao amici, benvenuti a Palermo. Siamo appena scesi dal treno e possiamo dire che c'è un caldo assurdo. Ok, mi sa che abbiamo sbagliato strada, stiamo andando un po' alla cieca, ma dobbiamo raggiungere il posto dove andremo a mangiare le fantastiche arancine. Poi che tentiamo? Sì, andiamo! E la seconda a carne. La mia prima arancina vera in Sicilia. Credo dire, stra buona. La seconda era presa con lo speck mozzarella e... Sì, togli qua c'è la dentro. Ora assaggiamo quella con speck noci e mozzarella. Devo dire che l'arancina con lo speck stra buona, forse anche più buona di quella con la carne. E' super consigliata. E' il teatro più grande d'Italia barra del mondo. Sì vecchio, è il terzo teatro più grande del mondo. Dopo quello di Vienna e quello di qualcos'altro. Sì, è il terzo teatro più grande del mondo. Che strano. Ragazzi, abbiamo raggiunto il mare. Sì. Ragazzi, madonna. Ci troviamo... Ci troviamo alla spiaggia di Bombello, diventata molto famosa durante il covid e finalmente ci sono venuto pure io. E l'acqua è fantastica, cioè è super trasparente, mi si vedono un po' i piedi. E il tipo è invece un mollo di merda perché non viene a fare il bagno. Perché... Porca puttana, è fredda! Qua c'è pieno di turisti e noi ci stiamo spazzolando i piedi. Team Outfit Timberland Costume. E invece adesso siamo ritornati in centro storico per andare a trovare un posto dove mangiare, fare nel frattempo un altro giretto e poi concludere con l'assaggio dei cannoli siciliani per poi andare a prendere il treno che ci porterà in aeroporto. Sì! C'è cap Exceptione. Abbiamo preso il cannolo. Adesso andiamo all assaggio. Dai, mi hai sentito un fesso. E' molto buono. Molto. Casadeccio. Cenetta a base di pesce. Però sono buone. Raga finita la nostra giornata a Palermo. Adesso torniamo a casa. Un saluto dal Tibet e da me. Ci vediamo. Io non posso cominciare.